Con l'approssimarsi di ferragosto la cabina di porto di Mazzarevallo ha innalzato i livelli di attenzione nei confronti di tutte quelle attività che si svolgono in mare, soprattutto nel corso della stagione estiva anche alla luce dell'operazione Mare Sicuro che noi abbiamo avviato, che stiamo seguendo, stiamo sviluppando fin dal mese di giugno. Proprio per tale motivo per il weekend di ferragosto noi abbiamo creato una task force di uomini e mezzi che presidieranno il litorale di giurisdizione che va da Capofeto a Selinunte con uomini e mezzi che appunto lavoreranno H24 in stretto coordinamento con la sala operativa della Guardia Costiera che consentirà attraverso il monitoraggio del traffico navale in uscita e l'entrata dal porto di Mazzara o lungo il litorale di giurisdizione di seguire l'evolversi di queste giornate che ci aspettiamo essere particolarmente dense di unità in mare. La nostra attività è legata all'ascolto radio, al soccorso in mare sia per quanto riguarda le richieste di soccorso che dovessero pervenire attraverso il canale 16 VHF sia attraverso il 1530 che il numero blu che la sala operativa ha sempre attivo 24 ore su 24 e che consente anche attraverso uno smartphone, un telefono cellulare di chiamare la Capitaneria di Porto più vicina al luogo in cui si manifesta l'emergenza. Detto questo noi cercheremo di seguire questa particolare festività, la più importante festività estiva anche in sinergia con le altre forze dell'ordine. Abbiamo tenuto, abbiamo convocato in Capitaneria i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei comuni, delle polizie municipali che operano sul territorio per cercare di approfondire congiuntamente quelle che sono le criticità che potrebbero verificarsi durante questo weekend lungo di Ferragosto e razionalizzare l'uso delle risorse in modo da creare quelle sinergie e quel coordinamento che dovrebbero garantire in caso di necessità un intervento quanto più efficace e tempestivo possibile. E' chiaro che l'auspicio che facciamo a tutti e che non solo la Guardia Costiera e non solo le altre forze dell'ordine possono presidiare il territorio ma è necessario il contributo da parte di tutti i cittadini che attraverso il proprio senso civico, il proprio senso di responsabilità diano appunto una mano a far sì che questa festività, che l'apice della stagione estiva avvenga con serenità e in sicurezza. Grazie a tutti.